Buonasera amici sportivi, tifosi rossoneri, tifosi della Lucchese, dunque ci siamo, 34esima ed ultima puntata stagionale, stasera cala il sipario sulla nostra trasmissione, ma come dicevano gli antichi, dulcis in fundo, chissà, forse sì, perché stasera è venuto a trovarci come abbiamo abbondantemente anticipato già da un paio di giorni, l'amministratore delegato della Lucchese, il dottor Ray Lofaso, buonasera Lofaso e grazie di essere con noi. Buonasera e grazie per avermi invitato. Era doveroso da parte nostra e la ringraziamo molto ad aver accettato il nostro invito. Non si conoscevano, anche se in realtà il dottor Lofaso ti conosceva bene, buonasera Opinion Leader. Buonasera, buonasera a tutti. Sa che questo signore è il mio compagno di viaggio da 12 anni, stasera si chiude il dodicesimo anno di Curvo Ovest e devo dire che guardi, certe volte le trasmissioni, poi adesso vorrei che lo confermasse, magari me lo smentisce, servono anche per cementare veramente un rapporto di stima ed amicizia e questo è stato forse, posso dirlo, al di là dell'affetto della gente che ci segue, una delle cose più belle di questi 12 anni. confermi? Ti ringrazio, confermo, ti ringrazio, confermo, il prossimo anno facciamo 13. Ma chi lo sa, vediamo, vediamo, intanto il prossimo anno dottor Lofaso, poi sentiremo i messaggi sicuramente, ma soprattutto lo dico subito, stasera le domande è compito e dovere anche di farle noi, da parte nostra, so che ce n'ha diverse anche l'Opinion Leader, è chiaro che c'è molta attesa per il vostro arrivo, per la vostra venuta a Lucca e intanto so che anche oggi ha avuto una giornatina, mi diceva, vi è arrivato qui negli studi proprio di corsa. Sì, stiamo facendo tante cose, quindi dobbiamo centellinare ogni secondo per presentarci ai nastri di partenza in ordine. Ecco, uno dei primi provvedimenti che avete preso, diciamo di straordinaria urgenza in tutti i sensi, noi ne abbiamo parlato tante volte nel corso di questa stagione, il fondo del terreno del Porta Elisa non ne poteva veramente più, so che in queste ore sono cominciati i lavori, magari più avanti, nei prossimi giorni quando si comincerà a vedere qualcosa, andremo anche noi con le nostre telecamere, era proprio una delle priorità, perché poi insomma è anche dove si gioca. Diciamo che abbiamo iniziato dalle cose più semplici, ma anche più essenziali, il terreno di gioco era in condizioni pessime ed è il nostro luogo di lavoro, diciamo. E' un po' un biglietto da visita. E' un biglietto da visita, esattamente, quindi abbiamo pensato di investire rapidamente su questa manutenzione straordinaria, perché poi i tempi tecnici per presentarci al nuovo campionato sono molto stretti, quindi bisogna intervenire immediatamente. Parliamo credo oggi è il 18, parliamo di tre mesi, diciamo i spiccioli, via. Sì, sì, 90 giorni. Tre mesi e spiccioli. Ecco, per quanto riguarda invece, a proposito di mesi, voi siete arrivati esattamente, io lo ricordo bene, allora intanto, proprio per fare, prima al Museo Rosso Nero e successivamente quando proprio c'era stata la firma al Real Collegio, era di giovedì, così, intanto quando va in onda cura, ma credo che sia stato del tutto casuale. Tre mesi dopo il vostro arrivo, mi dice una cosa, dottor Lofaso, naturalmente, ecco, qui è quando siete venuti la prima volta, eravamo ancora in pieno inverno al Museo Rosso Nero, tre mesi dopo, patron Bulgarella, lei, Mangiarano, insomma, tutto lo staff della nuova dirigenza della Lucchese, siete convinti come allora o più di allora? Ma siamo entusiasti, il termine esatto è questo, siamo vogliosi di metterci all'opera, siamo contenti di come la città di Lucca ci ha accolto, perché noi abbiamo scelto un po' prima la città e poi diciamo la Lucchese, ci siamo innamorati prima di Lucca come città e immediatamente dopo per la Lucchese, perché è stato un corteggiamento molto lungo nel tempo, perché Lucca la conoscevamo già da un po' di tempo e quindi siamo veramente molto contenti. Di contro abbiamo tante sfide che ci attendono, questo lo sappiamo, ma ci siamo messi all'opera già dalla firma del preliminare che era il 9 di febbraio e non abbiamo perso nemmeno un giorno, anche se magari abbiamo preferito lavorare in silenzio. E anche rispettando comunque quelli che c'erano prima di voi e che tuttora vi stanno accompagnando. Allora questa è stata una scelta molto precisa, noi abbiamo acquistato la Lucchese in un momento delicato, c'erano delle scadenze federali, il campionato era ancora in pieno svolgimento, tra l'altro la Lucchese non era né salva né in zona certa di poter fare i playoff, quindi abbiamo scelto in maniera molto razionale di lavorare nell'ombra, mantenere lo status quo per non turbare gli equilibri che il club aveva raggiunto e abbiamo preferito concentrarci in un lavoro diciamo più oscuro, ma altrettanto importante. Questa secondo me è stata una scelta intelligente, saggia, perché basti pensare a quello che è successo alla prima partita successivamente all'acquisizione del club con la recatanese. Esattamente, e quindi è molto semplice turbare gli equilibri, noi abbiamo tutto il tempo per lavorare serenamente, quindi abbiamo fatto questa scelta in maniera razionale. Il dottor Lofaso è talmente bravo, e io devo dire che lo conosco da poco tempo, ma tra noi si è creato subito una sorta di feeling, anche perché lui mi ha detto, e questo era il mio compagno di viaggio, opinion leader, sicuramente comincerà a gongolare, che lui il dottor Lofaso ci ha seguito anche prima di entrare alla Lucchese, ci ha voluto studiare, è vero o no? Allora, oggettivamente quando il mio presidente mi ha chiesto se me la sentivo di portare avanti questa sfida era il mese di febbraio, i primi di febbraio io ho iniziato a documentarmi anche su tutta la stampa locale e quindi ho un po' approfondito alcuni temi, tutti i temi che potevo approfondire, diciamo. E quindi insomma ha dato un'occhiata anche a noi, perfetto. No, no, io mi ha anticipato la seconda domanda perché volevo chiedere, perché la Lucchese lui ha detto prima la città e poi anche la squadra, fermo restando che insomma il blasone di questa squadra, di questa società, se ne sarà reso conto anche proprio all'interno dello stadio dove ci sono tutti i cimeri, al museo dove veniste a febbraio, è tanto. In realtà diciamo sono, anche su questo non vorrei essere ferinteso, abbiamo scoperto prima Lucca ma ancora non c'era nulla di concreto per la Lucchese perché Lucca è una città molto bella, noi ci occupiamo principalmente di ospitalità, di alberghi, quindi avevamo iniziato qualche trattativa un po' di anni fa e poi quando è arrivata questa occasione immediata, è stato un corteggiamento molto rapido perché c'erano anche delle tempistiche stringenti, ci siamo immediatamente appassionati, il mio Presidente perché ha avuto già esperienza nel mondo del calcio, ama la Toscana, ama queste terre, la Lucchese ha un blasone molto importante, noi dobbiamo essere all'altezza del suo blasone e devo dire che la cosa che ho scoperto immediatamente è che tutti i cittadini di Lucca seguono la Lucchese, che non è una cosa scontata, almeno tutti quelli con cui ho parlato. Ora l'opinione l'idea su questo credo le voglia fare una domanda, no mi piace perché noi ci siamo incontrati anche quella famosa tra virgolette domenica mattina e lei sa già a cosa mi riferisco ma io non ho assolutamente mai commentato e ho notato, c'era anche Mangiarano che mi sembra pure una persona molto professionale, che lei molte volte dice il mio Presidente, questo l'ho notato e mi sembra una cosa significativa, il mio Presidente parlando di Andrea Bulgarella che ormai fra voi possiamo dire c'è un rapporto anche legato agli alberghi adesso con la Lucchese quindi lei possiamo dire che lei è proprio l'uomo di fiducia di Andrea Bulgarella. Devo dire che Andrea Bulgarella mi ha insegnato la cultura del lavoro, è una cosa importante, io penso di avere portato la mia professionalità nel gruppo, lui è un imprenditore vero e quindi ho imparato tanto e devo dire che quando mi ha fatto questa, mi ha proposto questo ruolo non ho avuto nessun dubbio diciamo di accettarlo immediatamente. Ma è un sognatore Bulgarella che speriamo ormai il prossimo anno da avere qui da noi, è un sognatore perché lui quando arrivò la prima conferenza disse, parlò più volte di questo sogno, di sognare questo chiaramente ha dato grande spinta e grande morale alla gente di Lucca che sul piano calcistico viene da un periodo veramente disastroso. è un sognatore ma è un sognatore concreto, noi siamo in generale un gruppo ambizioso e questa ambizione ce la trasmette lui giornalmente, poi è chiaro che con la sola ambizione non si va da nessuna parte, servono le energie, le risorse, la competenza, la voglia di arrivare agli obiettivi, non sempre queste caratteristiche diciamo sono semplici da reperire. Giulio so che a proposito della gente, perché il dottor Lofasa ha detto, qui tutti sono innamorati della Lucchese, i numeri dello stadio anche quest'anno purtroppo non sono proprio la stessa cosa. Mi ha colpito il fatto che intanto si siano innamorati prima della città e poi dopo susseguentemente della squadra, ma per il semplice motivo che io ho sempre detto, se ti ricordi che Lucchese ormai è una città da Champions League, nel senso che è una delle prime città d'Italia come bellezza, come attrazioni, come manifestazioni di livello anche internazionale, anche mondiale, quindi a Lucchese mancava veramente la ciliegina sulla torta che è data da una squadra di calcio che è lo sport più seguito al mondo, quindi mi ha fatto piacere questa cosa qui enormemente perché se si sono appassionati prima della città e poi della squadra secondo me è un viatico perfetto. Per quanto riguarda il discorso di aver capito che tutti i lucchesi sono appassionati alla Lucchese è un'altra verità che purtroppo cozza in questo momento con le presenze allo stadio, però è una verità quella che ha detto il dottor Lofaso, cioè a Lucca tutti parlano della Lucchese, poi magari a domenica non vengono allo stadio ma tutti sanno e parlano della Lucchese e questa è un'altra cosa che deve essere da una parte anche uno stimolo per loro perché chiaramente questi 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 persone che in tempi diciamo di vacche grasse frequentavano il Port Elisa vanno assolutamente recuperate. Di cosa devo chiedere? Come si recuperano? Si recuperano facendo chiaramente dei nel calcio si gode se si vince, nel senso perché a me non mi risulta che ci sia qualcuno che gode arrivare terzo, quarto, quinto e poi magari come è successo. Se arrivano quarte vanno in certo. Sì sì ma purtroppo noi non siamo in quelle condizioni quindi diciamo. Dai, gli vuoi dire che da tifoso oltre che d'opinione leader vuoi la squadra forte? A volte è una squadra che abbia delle ambizioni, poi vincere non sarà sicuramente facile, non è detto che si riesca al primo colpo, però è ovvio che intanto fare i playoff da secondi, terzi in classifica è diverso da farli da ottavi, noni, decimi e così via. Infatti Cesena è sempre ricaspetto. Esatto, esatto. Cosa gli rispondiamo all'opinione leader del dottor Refas? Allora rispondiamo, intanto devo dire io sono stato alla trasferta di Ancona, i nostri tifosi erano presenti e molto rumorosi e li devo ringraziare perché hanno fatto tanti chilometri in un orario complicatissimo, in un calendario complicatissimo e anche i tifosi che sono venuti da quando noi abbiamo acquisito la società al Porta Elisa si sono sempre fatti sentire. L'entusiasmo io lo sento sotto traccia, però dobbiamo anche essere realisti perché prima di capire dove si vuole andare bisogna comprendere da dove si parte. Noi oggi veniamo da un campionato di metà classifica, abbiamo un settore giovanile che è in grande difficoltà, abbiamo un importante settore femminile che è in difficoltà, chiudiamo ora una trimestrale di bilancio, il bilancio al 31 marzo con una pesante perdita, dobbiamo ricapitalizzare urgentemente, questo non vuol dire che non abbiamo ambizioni, non vuol dire che non vogliamo vincere perché io personalmente sono molto competitivo e non mi piace perdere nemmeno a ping pong, però bisogna comprendere da dove si parte, questo è lo scenario, ovviamente noi di questo scenario non possiamo essere contenti e questo deve essere il primo stimolo che ci porta a capire che si deve cambiare, dobbiamo cambiare l'approccio di intendere il club, dobbiamo avere una squadra forte dietro le scrivanie, nei ruoli che contano, nel team che guida il club, che deve essere una squadra unita, coesa, compatta, che sia all'altezza dei tifosi della piazza e che possa generare, poi creare una squadra, porre le condizioni affinché ci sia una squadra con delle ambizioni. Le basi di ciò? Sicuramente sì. Io la devo interrompere perché siamo andati un po' oltre, sa che c'è la pubblicità, quindi dobbiamo andare in pubblicità, io però voglio ripartire da qui perché in questi due minuti secondo me il dottor Rofaso, io dico sempre tra le righe, perché certe volte l'intelligenza delle persone è di capire quello che uno dice, siccome a casa sono tutti non intelligenti, di più tutti hanno capito, però voglio ripartire da qui e dalla cosa che più mi colpì quando ci siamo trovati quella domenica mattina con i colleghi e che magari qualcuno neppure ha scritto, a tra poco. 21.33, ultima puntata stagionale di Curvo Ovest in compagnia dell'amministratore delegato della lucchese, il dottor Rai Lofaso, che è con noi e che io ringrazio perché qui siamo di fronte a un personaggio che di impegni e di lavoro ce n'ha veramente tanto, non bastavano gli alberghi, tra l'altro quando si parla della possibilità in futuro di avere una lucchese che vorremmo definire bella, molto bella, qui parliamo di un'attività, quella che il dottor Rai Lofaso fa con il suo presidente, Bulgarella, dove la bellezza diciamo che è veramente… siete abituati a convivere con la bellezza, lo possiamo dire? Allora è molto importante per noi perché lei deve considerare che la maggior parte dei nostri alberghi sono dei beni vincolati alla sovrintendenza, sono dei recuperi e quindi quasi mai si tratta di attività di speculazione, ma si tratta di recuperi veri e propri che poi diventano opere uniche, qui in Toscana c'è diciamo una testimonianza che il Grand Hotel è l'Hotel Palazzo di Livorno, è una di quelle opere storiche diciamo che abbiamo recuperato e oggi è un 5 Stelle molto importante. Allora io so che lei è anche un ex calciatore, ce l'ha raccontato, quindi è un uomo di calcio anche, non è soltanto un uomo che deve insomma gestire una società, lei ha una grande passione per il calcio diciamo. Allora ho una grande passione per il calcio, ho giocato in categorie polverose rispetto a queste più nobili, però alla fine della fiera il tema è sempre lo stesso, c'è una palla che gira, ci sono gli avversari, si devono raggiungere degli obiettivi, bisogna fare squadra, questa è una cosa molto importante, poi cambiano gli scenari, le dinamiche sono sempre le stesse bene o male, però la cosa più importante, perché ci saranno gli uomini giusti nella parte sportiva, i compiti importanti ce li avrà l'allenatore, il direttore sportivo, il direttore generale, il mio ruolo in azienda è quella di far funzionare il club in maniera precisa, ordinata e di riuscire a generare valore per la Lucchiese. Senta, e che ruolo giocava? Giocavo regista, centrocampista centrale. E' quello che fa anche adesso dietro la scrivania. Eh, mi viene un po' meglio dietro la scrivania. L'opinion leader mi dicono che era un terzino, allora si chiamava il terzino di quel, no, allora no, hai cambiato ruolo. L'opinion leader era un esterno d'attacco. Ma con fantasia? Ovviamente, sono un uomo molto fantasioso. Senti, a proposito, noi abbiamo sempre detto in questi anni, diciamo io e l'opinion leader, dall'estate del 2019 in poi, abbiamo sempre detto, no, facevano cenni per il microfono, abbiamo sempre detto che i dirigenti da cui avete insomma ereditato la Lucchese, che comunque fanno parte ancora della compagine societaria, fino a prova contraria, fino al 30 giugno, hanno fatto una cosa grandissima, perché se nel 2019 non fossero intervenuti, probabilmente a quest'ora saremmo a parlare di altre cose. Però le chiedo, di solito quando arriva una nuova dirigenza, arriva una nuova società, mette i suoi uomini, c'è lei per il presidente Bulgarella, c'è Mangiarano, cosa ne sarà dei vecchi soci? Le ho chiesto in modo un po' bruto, mi perdoni. Intanto, diciamo, noi dobbiamo ringraziare l'operato della società uscente, perché ha salvaguardato l'esistenza del calcio a Lucca in questi anni molto difficili. È logico che noi avremo un organigramma differente, avremo un'organizzazione complessiva, differente, parlo dell'organizzazione aziendale della Lucchese, poi sui ruoli specifici, io avevo promesso, e mi piace mantenere sempre le promesse, di fare una conferenza stampa a fine campionato, un pochino più avanti, dove andremo a presentare un po' quelli che saranno i programmi della società e un po' l'organigramma futuro, che è un po' un organigramma legato proprio all'azienda lucchese. Quindi momentaneamente non ho novità importanti da questo punto di vista, sicuramente nelle prossime settimane, nella prossima settimana, nei prossimi giorni, inizieremo un lavoro più approfondito. Conferenza stampa che farete prima di andare in vacanza, ma le chiedo, ma ci andrete in vacanza? Le vacanze sono una bella… Siamo abbastanza in anticipo quest'anno però, anche se dovete fare mille cose, lo capisco. Lei consideri io le vacanze le faccio sempre in periodi molto lugubri, normalmente nel mese di novembre o nel mese di dicembre, quindi attualmente c'è veramente tanto da fare, quindi siamo molto concentrati sia sull'attività aziendale sia sull'attività del club. Nei giorni scorsi è stato presentato il progetto definitivo del nuovo stadio Porta Elisa, noi ancora una volta, adesso credo Matteo Pedrini ci riproporrà quelle belle immagini che sono bellissime perché ci mostrano come dovrebbe essere il nuovo stadio, ma mi risulta, è passato un uccellino che mi ha detto che non è detto che questo sia il progetto definitivo. Allora, sul tema stadio io con estrema franchezza le dissi e dissi in conferenza stampa, ma lo disse anche il Presidente Bulgarella, diciamo non è stata una determinante per noi, cioè noi siamo venuti a Lucca per rilevare la Lucchese, lo stadio sicuramente è un asset importante e quindi quale società di calcio non sarebbe contenta ad avere uno stadio nuovo e noi tra questi saremmo i più contenti. Guardi quanto sarebbe bello, il tema è comprendere la reale fattibilità complessiva di questo stadio in termini di costi e di sostenibilità. Noi questo tema non lo abbiamo ancora sviscerato nei dettagli, il progetto sta seguendo un suo ITER che abbiamo già trovato avviato, ovviamente dovremo comprendere la reale fattibilità economica e la reale tenuta di questo progetto complessivo. Poi, sempre per essere molto chiari, perché è giusto essere chiari con i tifosi, lo stadio è un progetto a cui noi dobbiamo aspirare, ma è un progetto di medio termine, noi abbiamo un progetto di immediato termine perché tra due mesi inizia il campionato, tre mesi inizia il campionato e quindi il nostro programma oggi è quello di dotare la Lucchese di una casa che sia all'avanguardia, dove potersi allenare, dove poter preparare la stagione. Parlo di Saltocchio. Parlo di Saltocchio. E poi, per quanto riguarda lo stadio, sicuramente nell'immediato andremo a fare delle piccole modifiche per renderlo un attimino più gradevole, un attimino più confortevole nei percorsi, nell'accoglienza, nell'ospitalità, cercando anche di comprendere se si può, insieme all'amministrazione comunale con il quale ho avuto un incontro anche stamane, se si può intanto mettere in sicurezza o iniziare la ristrutturazione della tribuna centrale, perché quella tribuna sia con il nuovo stadio, sia con lo stadio attuale deve essere riaperta e riqualificata, perché è un peccato mortale tenerla chiusa. Per cui ci sono dei progetti nel lungo periodo, però noi non ci dobbiamo fare abbagliare nei progetti nel lungo periodo, dobbiamo essere concreti e già nel breve periodo presentarci a questo campionato con uno stadio che abbia un terreno di gioco degno della Serie C, della Lega Pro, scusatemi. Un punto di accoglienza di ospitalità degno di Lucca e della bellezza che Lucca esporta in tutta Italia e tutto il mondo e poi cercheremo di fare delle piccole migliorie laddove è possibile, anche all'Acquedotto dove si allena il settore giovanile. Gli sono saci che c'è un progetto di una cittadella dello sport. Anche questa cosa è bellissima, però i tempi sono sempre medio-lunghi, quindi noi intanto abbiamo, insieme al contratto che abbiamo firmato per il rifacimento del manto del Porta Elisa, stiamo facendo fare un intervento di manutenzione straordinaria anche all'Acquedotto, perché i ragazzi, se vogliamo consentire al settore giovanile di essere, come posso dire, più forte, dobbiamo consentire ai tecnici che ci sono, che verranno, di avere degli strumenti di lavoro più adeguati. Senta, venendo alle questioni di campo, stagione appena passata, l'eliminazione di Ancona le ha bruciate un po', le ha bruciate, perché sembrava fatta. Poi l'Ancona abbiamo visto è andata a vincere anche a Carrara, anche lì negli ultimi minuti, mentre stasera sta giocando con il Lecco. Sta perdendo in casa con il Lecco. Ma ci interessa relativamente, lei era il Del Conero e poi ha bruciato, eh? Ha bruciato molto perché, diciamo, da tifoso ormai sentivamo la partita nostra e quindi ha bruciato molto anche perché i ragazzi hanno giocato una partita veramente di grande livello. Mi è dispiaciuto anche per i tifosi che hanno fatto veramente tanta strada. E di giovedì alle 18? Però bisogna anche essere realisti. Se vai ai playoff da ottavo, la possibilità di andare avanti è veramente risibile. Poi basta un non nulla, sbaglio un pallone, sbaglio una copertura, eccetera, eccetera, e ti sei giocato la stagione sostanzialmente. Sono partite queste che vivono sul filo proprio del pathos, eh? Pino Lider, che dici? Non tanto di questa partita, ma di quello che diceva il dottor Lofaso anche in merito allo stadio e alle... Ma io guarda... Loro ci hanno parlato di sogni, ha cominciato. Io... Però un conto è sognare, un conto è non essere degli effimeri sognatori. No, io sono sincero, no? E lo sai, io ho sempre pensato e ho sempre detto che chiunque in questo momento qui prendesse la lucchese, la prima cosa da fare era di risistemare la tribuna coperta. Cioè non esiste stadio al mondo che non ha la tribuna coperta agibile. Qui siamo a dei livelli, diciamo, vicini allo zero, no? Come sappiamo tutti. Quindi, dentro di me dicevo, secondo me chiunque venga a Lucca prima o poi deve mettere le mani alla tribuna. Perché? Al di là del fatto che perdi minimo minimo mille spettatori. Perché? Perché quando le partite si giocano sotto la pioggia battente, e quest'anno è successo fortunatamente poche volte, però è successo, l'anziano, il sessantenne, il settantenne che deve partire da casa, deve stare due ore con l'ombrello sotto la pioggia, non parte e la guarda in televisione. Mentre invece se c'è una tribuna coperta normale, non dico una tribuna coperta da chissà... Da mila e una notte. Da mila e una notte, però una tribuna coperta normale, un bar che funziona, un punto dove uno può andare a prendere un caffè fra prima e secondo tempo... Ci vogliamo aggiungere anche, dottor Lofao, i servizi igienici. Servizi igienici, lasciamo perdere, lasciamo perdere. E quindi dico, già questa è un'altra cosa che mi ha favorevolmente impressionato, perché io ho sempre pensato questa cosa qui, ho detto, boh, lo stadio si farà magari fra un anno, fra due, auguriamoci il prima possibile, ma nel frattempo... Eh no, è vero, è vero, è vero. È sicuramente... Intanto stiamo rivendendo le immagini di Ancona. Voglio dire, a telespettatori a casa, che fra poco cominceremo a vedere anche qualche messaggio e magari ci saranno delle domande da casa, gliene leggerò subito uno dell'amico Mario Santini, capello da Firenze, un grande tifoso... Poi scusami, chiudo, la tribuna coperta è fondamentale, no? Quindi dico, a questo punto qui, tanto siccome va ristrutturata, come diceva dottor Lofao in precedenza, se si può già partire con la messa in sicurezza, la messa a norma, poi i lavori, diciamo, di rifinitura si faranno insieme quando arriverà, diciamo, il progetto dello stadio, quando arriverà il rifacimento dello stadio, però intanto la risistemiamo come deve essere fatto in tutti gli stati. Noi dobbiamo andare in pubblicità, quando torniamo cominciamo a leggere qualche domanda anche da casa, poi ne abbiamo ancora... poi sa che insomma i tifosi sono curiosi, i tifosi vorrebbero già sapere chi è il nuovo allenatore, vorrebbero già sapere tante cose, no? Che non credo stasera dottor Lofao ci potrà dire, se però magari ci anticipa qualcosa, noi siamo qui, va bene, dopo la pausa pubblicitaria, tra poco. 21 e 48, eccoci tornati, allora dottor Lofao, dobbiamo fare degli auguri stasera, perché stasera, anzi domani, a dire la verità, ma noi Curvo Ovest va in onda stasera e quindi, poi saranno perfetti domani nella replica, quando va in onda la replica del venerdì, perché c'è questo signore di cui vediamo la foto, che si chiama Piero Maccioni, che domani compie 80 anni, queste sono proprio le figurine, quelle vecchie, antiche degli anni 60, che pensate domani compie 80 anni, quindi vuol dire che è del 1943, noi naturalmente gli facciamo tanti auguri, lui è stato un giocatore, era un centro mediano, quindi allora il centro mediano, mi ricordo, poi diventò lo stop, giocava al centro della difesa, no, il centro mediano metodista si chiamava, centro mediano metodista addirittura, non lo so se era, chiamavano anche chi giocava proprio con me, col 5 comunque, chi giocava stop, comunque è stato un giocatore della Lucchese 63-64, suo figlio Pierangelo, che pure salutiamo, mi ha mandato anche una classifica della fine del girone d'andata, la vede? Era Serie C, c'era in testa il Forlì, poi il Livorno, il Pisa, la Rezzo, il Siena, la Lucchese, Lempoli, mamma mia che campionato, parliamo di 60 anni fa, tanti auguri signor Piero, noi la salutiamo, mi associo agli auguri, certamente, certamente, allora, chiede Mario Capello, non lo vado a vedere, tanto ne ricordo, dice, noi, io e diversi amici, tifosi da Lucchese, vorremmo che la nuova società non smantellasse la squadra di quest'anno, che tenessero diversi giocatori e poi, vabbè, ora non so se siamo già a quel punto lì, cosa si può dire? Allora, noi, in organico, in questo momento, mi sembra, abbiamo una decina di giocatori. Sono proprio sotto contratto anche per il prossimo. Sono sotto contratto, quindi non partiamo da zero. È certo. Ovviamente, devo dire che il gruppo squadra è un gruppo veramente sano, di ragazzi veramente per bene, io li ho conosciuti da poco tempo, però ad Ancona mi sono reso conto che un gruppo veramente sano, erano molto dispiaciuti dall'eliminazione, quindi sicuramente con l'ausilio di tutti gli addetti ai lavori, quindi il direttore sportivo, l'allenatore, si faranno con serenità le valutazioni per comprendere chi riconfermare e chi no. Ma tra l'altro sarebbe sciocco da parte nostra smantellare le cose che hanno funzionato. Noi dobbiamo migliorare lo stato delle cose, perché se tu parti da zero fai due volte fatica, quindi dobbiamo migliorare consistentemente lo stato delle cose. L'opinione lì? No, vedo che agnuisci sempre tutto quello che dice il dottor Rofaso. Perché chiaramente prima ha detto una frase giusta, perché ha detto che la Lucchese è arrivata a metà classifica, effettivamente si è arrivato a due punti in più della metà della classifica, quindi non è una squadra da ultime posizioni, ma non è neanche una squadra da primissime posizioni, per cui chiaramente tenendo presente che dieci giocatori saranno sotto contratto, quindi sicuramente sotto dieci saranno quelli che... Ti tacci di essere un grande esperto di calcio, penso avrai il coraggio di confermarlo anche stasera. Assolutamente, ha maggior ragione che ho il dottor Rofaso accanto. Hai sempre detto, ma io sei, sette, otto giocatori di quest'anno me li piace. Ti sei un po' allargato, io avevo detto cinque, sei... Cinque, sei insomma c'è una base. Sì, sì, cinque, sei che poi... Cinque, sei che dici te, anche possibili titolari. Ci allarghiamo, diciamo qua tre, quattro titolari e poi il resto ex novo. Allora... Anche perché, scusami, ma la colonna di una squadra è formata da un portiere, un difensore centrale, un centrocampista, un attaccante forte. E di questa spina sociale... Stasera mi sento di dire che mancano tre quarti di questa spina. Lui ci fa un nome e cognome, il nome è Andrea, il cognome ti ritieni. Eh vabbè, questo l'ho scoperto, ho scoperto l'acqua calda. Sopriamo l'acqua calda, dai. Ho scoperto l'acqua calda. I nostri tifosi, quelli di amici, il popolo di Curvo Ovest, come trasmissione, al di là della grande Curvo Ovest che c'è allo stadio, salutiamo tutti i ragazzi della Curvo Ovest, hanno dei soprannomi, hanno dei nickname. Jack il Folle, tanto per cominciare dice, portateci in Serie B. Eh, questo è Jack il Folle. Beh, sa che c'è grande attesa, naturalmente, questo l'abbiamo detto, già all'inizio. Cioè, siete circondati da una luna di grande attesa e di grande speranza. Sicuramente, e ne siamo consapevoli. Infatti, come ho detto anche nell'intervento di prima, dobbiamo dotare la società di una squadra forte, anche, diciamo, nei ruoli importanti dietro la scrivania, per essere altrettanto forti in campo. Perché siamo venuti a Lucca per essere ambiziosi. Ambiziosi vuol dire ambire a qualcosa. È chiaro che tutti vogliono vincere, ma noi vogliamo ambire a essere tra le prime squadre del prossimo campionato. E quindi cercheremo di attrezzarci. Anche Luca, della gradinata agitata, sul tenore, il suo messaggio di quello precedente, di Jack il Folle, dice, come ha detto patron Bulgarella, bisogna credere e lavorare per i sogni. Auguro a lei, e a Bulgarella, e a Mangiarano, cioè la nuova Lucchese è identificata, naturalmente, nel Presidente, nel Dottor Lofasi, anche in Mangiarano, di portare la gloriosa Pantera in Serie B, tutti uniti per la Pantera, Luca della gradinata agitata. So che su Mangiarano volevi intervenire. No, volevo dire che chiaramente in un'azienda i ruoli fondamentali sono quelli del proprietario dell'azienda, quelli dell'amministratore delegato e quelli del direttore generale, in tutte le aziende del mondo. Quindi loro sono venuti già con la squadra pronta, perché Bulgarella è il patron, o il proprietario, come si vuole dire. È il presidente. Non so se farà il presidente, a tutti gli effetti, non lo so. Non lo so se lo farà, ma è il suo presidente, no? Ok, ok. Tra altre cose è entrato con la holding, con il gruppo Bulgarella, all'interno della Lucchese. Quindi questo è un segnale importante, perché, dico questo, perché se erano entrati con una società satellite, farlocca, messa in piedi 15 giorni prima, sarebbero stati momenti di preoccupazione. Mentre invece col fatto che impegna, fra virgolette, la sua holding, la sua azienda, o una delle sue aziende, dentro la Lucchese è sicuramente un... cioè, non un punto a favore, ma mille punti a favore. Una certificazione ulteriore, forse. Ok. E quindi, dico, la Lucchese, di fatto, l'organigramma, diciamo, basilare di una società, c'è già. Perché c'è già il patron, il proprietario, l'amministratore delegato... Non mancano altri ruoli... E il direttore generale, certo, certo. Quindi, voglio dire, da quello che si capisce, insomma, Bulgarella resterà un po', fra virgolette, ai margini, perché comunque è il proprietario e lascerà fare. Al dottor Lofaso, per quanto riguarda la parte organizzativa, amministrativa, eccetera, eccetera. E al dottor Maggiarano, per quanto riguarda la parte tecnica, organizzativa, cioè, le frecce all'arco ce l'ha già. Poi, da lì in giù, si vedrà... Ecco, la parte tecnica, come dice l'opinion leader, sarà a Manggiarano a gestirla? Allora, noi cercheremo di ricalcare quello che succede all'interno della nostra azienda. Normalmente, diciamo, nelle nostre strutture c'è una catena di comando abbastanza corta, gli uomini sono sempre... Snella, diciamo. ...pochi e bisogna avere le idee chiare. Poi le decisioni vengono sempre prese collegialmente. Non c'è mai un uomo solo al comando. È chiaro che il mio presidente è stato nel mondo del calcio, in un mondo del calcio molto importante, gli anni 90, ne è stato un grande protagonista e quindi io non penso che starà ai margini, anzi ci darà una grande mano, concreta, d'aiuto, di consigli, di indicazioni e anche, perché no, diciamo di qualche colpo dei suoi, io ne sono convinto. Qualche colpo dei suoi parla di mercato? Ma non mi stranizzerebbe, diciamo. Poi, noi dobbiamo essere così bravi e attenti nell'organizzare una società che funzioni bene. sicuramente Mangiarano porta la sua grande esperienza nel mondo del calcio, nei rapporti con la federazione, nei rapporti anche, diciamo, col mondo del mercato. È una persona, insomma, che è stata in tante società, e per noi società molto importanti, per cui noi ci stiamo dotando di questa figura che sta dando una grande mano d'aiuto. Allora, non volevo dire che stava ai margini inteso, volevo dire che stava ai margini perché mi sembra una persona che non gli piace troppo apparire, e quindi magari in quel senso lì intendevo ai margini che non si occupi delle sue questioni, ci mancherebbe. Allora, c'è un altro amico, Andrea 64 Curvovers, che anche lui in pratica dice che Dottor Lofaso, vorrei esternare a lei e alla nuova dirigenza l'invito e la preghiera di avere fiducia nella città e in noi tifosi come noi la riponiamo in voi. Dopo tre fallimenti, in 11 anni e tante amarezze che abbiamo vissuto nel cuore e nel lamento, insomma, adesso finalmente vediamo uno spiraglio di luce. Ci sono molti, stasera capirete, non li posso leggere tutti, molti messaggi che il contenuto alla fine è questo e vi abbracciamo tutti per quest'ultima puntata, però non ci sarebbe tempo di leggerli tutti. Come diceva poc'anzi l'opinion leader, giusto? Anche un nome opinion, ormai ma anche a casa è vero che ti chiamano, mi chiamano Giulio, a casa mi chiamano ancora Giulio. Consentitemi una battuta, Giulio. Come diceva poc'anzi Giulio, noi abbiamo acquisito la Lucchese con delle società importanti del gruppo che hanno anche una discreta capitalizzazione perché abbiamo un progetto importante per la Lucchese, cioè dotare la Lucchese di una serie di asset importanti, la foresteria un convitto importante, una sede che consenta alle persone di poter esprimersi e poter produrre in maniera serena e dedicare lo stadio solo all'attività dell'evento partita. È una cosa dove noi dobbiamo oggettivamente migliorare nel creare, nel mettere diciamo i nostri tifosi nelle condizioni la domenica di vivere un piccolo evento ed è una cosa che sicuramente a piccoli passi andremo a migliorare. Mi sembra che insomma questa dirigenza abbia le idee molto chiare, poi è chiaro come tutte le cose sono i fatti che fanno la differenza e quindi oggi inizia una stagione fondamentale per le sorti della Lucchese alla nuova proprietà e dirigenza in bocca al lupo e buon lavoro e poi dice vabbè Antonio dice buone vacanze ci si vede ad agosto lui saluta ma per te che vai in vacanza è del due che andate in vacanza e l'obbino e adesso e poi dice ed ora tutti a Istanbul Antonio probabilmente è un tifoso dell'Inter penso i nostri tifosi i nostri telespettatori sono spettacolari allora questa è una domanda di Massimo non credo che sia Massimo da Pisa qual è il progetto per il settore giovanile che reputa più importante il settore giovanile è pari costruito evidentemente il settore giovanile è una componente molto importante per un club ambizioso perché ha due due compiti il primo compito quello di scambiare valore con il territorio ed è un compito importantissimo è già cominciato però in un certo senso così abbiamo fatto questa iniziativa molto bella allo stadio c'erano tantissimi bambini siamo stati molto contenti guardate l'ufficio stampa ci ha mandato una foto di un bambino e di una bambina non so se Matteo ce la può far vedere che è qualcosa che valde eccola qua guardate Matteo Vedini veramente in grande forma questa foto qui è stupenda sono bambini credo erano bambini dai 6-10 anni poi ovviamente andrà costruito anche un organigramma del del settore giovanile anche lì dobbiamo essere razionali e comprendere da dove stiamo partendo la primavera è retrocessa le nostre squadre gravitano tutte nelle posizioni di fondo classifica e quindi dobbiamo non possiamo dobbiamo consentire diciamo l'attuale stato delle cose bisognerà con le idee e con l'organizzazione cambiare un pochino la situazione e ricostruire credo anche un po' il rapporto col territorio che sì l'opinion leader mi fa anche da assistente di studio come vede siamo oltre sì lo vedo andiamo in pubblicità e torniamo poi siamo già all'ultima parte della trasmissione le domande più insidiose l'ho tenuta in fondo perché ho detto dulcis in fundo era com'è tu che sei al latino dulcis in fundo sì ho detto bene stavo per dire dulcis in fondo e però come si dice anche questo lo dico in italiano il veleno sta nella coda no? a tra poco in realtà forse ho fatto male i conti forse questo non è l'ultimo blocco no è il penultimo ecco ce n'è ancora un altro allora ti ho detto l'ultima parte ti sei salvato ci sono salvato sì va bene va bene allora da Jack il Foll a Diabolik che dice si firmano così un benvenuto al dottor Lofaso dice Diabolik fate le cose fate bene vedrete che oltre a lavorare in una bella città sarete orgogliosi di noi tifosi non immagina nemmeno ma non è una minaccia quante persone seguono nell'ombra diabolik perché troppo spesso tradite dalla nostra amata lucchese e lui dice insomma tre fallimenti quanti in undici anni è chiaro che c'è da da riconquistare la gente e si può capire anche se adesso esiste ancora uno strato di scetticismo tra la gente ma noi dobbiamo trovare in questo degli stimoli per far bene anche nella sconfitta di Ancona dobbiamo ricordarci di quei momenti che devono essere da stimolo per far bene è chiaro che dobbiamo costruire un percorso facendo un passo dietro l'altro in maniera molto concreta per cui siamo consapevoli di quello che ci attende però penso che siamo anche nelle condizioni di poter fare delle cose positive noi per dare un senso anche logico alla trasmissione stasera con l'opinione dell'idea abbiamo detto cerchiamo noi di fare un bel po' di domande perché altrimenti rischiavamo di saltare seguendo i messaggi chiaramente adesso arrivano tante tante domande da casa in cui il dottor Lofaso ha già risposto questa però di Emilio è interessante dice ma il nuovo terreno che sono cominciati in erba o in sintetico no no in erba in erba in erba allora dice salve che cosa farete con la scuola calcio rimarrà Academy Lucchese beh mi pare allora stiamo lavorando abbiamo anche lì le idee molto chiare siccome sono in fase di definizione tutti una serie di accordi e sono in fase di definizione anche i quadri complessivi degli allenatori stiamo già iniziando a visionare un po' di ragazzi ci sarà un primo stage dal 22 al 28 di maggio quindi abbiamo prolungato un po' l'attività del settore giovanile per iniziare dovrò fare test al Tokyo si faremo principalmente test al Tokyo durerà una settimana ma questo diciamo è una prima iniziativa perché la Lucchese è un forte appeal in giro per l'Italia e quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questo e cercare di rinforzare un attimino e andare a cercare questi nuovi talenti che ci sono in giro per l'Italia quindi anche su questo tema quando tutti le componenti del puzzle saranno allineate poi comunicheremo io forse risulto nel mondo del calcio un po' come posso dire una nota stonata perché noi siamo abituati a comunicare le cose quando oggettivamente una cosa è stata fatta e non ci piace molto comunicare dei farò e quindi stiamo lavorando ma delle cose concrete e quindi man mano che si allineano tutte le componenti poi comunicheremo diciamo c'è Andrea Daluca che dice buonasera benvenuto al dottor Lofaso lo chiamo caro vorrei sapere se avete già pronto è la curiosità mia Andrea mi anticipi però è quello che l'opinion leader è un'ora che è lì che vorrebbe sapere comunque Andrea dice vorrei sapere se avete già pronto uno staff per la squadra e dice parlo di direttore sportivo allenatore eccetera eccetera mi raccomando Lucca a voglia di calcio bello di un grande calcio di una grande lucchese saluti Andrea Daluca allora intanto bisogna precisare anche lì che in maniera in maniera razionale dopo l'eliminazione di Ancona abbiamo concesso a tutti i ragazzi anche il mister direttore sportivo un po' dei giorni per sbollire e quindi non abbiamo ancora parlato con loro bisogna considerare faccio un'altra premessa il mister Maraia che io ho conosciuto ma ho una conoscenza non profonda posso però dire sicuramente che è una bravissima persona un uomo molto corretto una persona anche abbastanza saggia ed equilibrata e nel mondo del calcio non è diciamo trovare persone così non è scontato non abbiamo ancora parlato con il mister è una cosa che faremo sicuramente nei prossimi giorni e quindi in questo momento mi sembra ci sta dicendo che la squadra si ritroverà ancora per allenarsi oppure a quello c'è già stato rompete le righe c'è stato rompete le righe il mister e il direttore sportivo hanno anche un altro anno di contratto quindi noi non abbiamo ancora parlato con con loro ci ripromettiamo di farlo già nei prossimi giorni per affrontare tutte le varie tematiche poi quando saranno prese le decisioni anche lì le comunicheremo allora una cosa che Mersa dottor Lofaso le farà piacere poi vabbè ha visto penso le trasmissioni almeno io glielo ho mandato e poi sì 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 l'ho visto è che arrivano ultimamente e l'opinion leader ne è fedele testimone messaggi di tanti ragazzi ma proprio talvolta bambini bambini allora questo dice ciao sono Ludovico ho scritto la prima volta quando avevo quasi sei anni e fra poco ne faccio sei la Valdinievole le sa che la Valdinievole si lo sa benissimo è qui accanto a noi è rosso nera forza Luca e ci mette un cuore rosso e un cuore fantastico allora noi abbiamo fatto qualche iniziativa quando siamo arrivati per cercare non tanto consenso ma per cercare di dare un aiuto ai ragazzi che andavano in campo quindi facendo delle promozioni per far venire allo stadio diciamo al prezzo simbolico di un euro i ragazzi sotto i 14 anni questa cosa è una cosa a cui teniamo molto perché gli stadi quelli belli quelli positivi sono quelli frequentati dalle famiglie dai bambini io appena ho potuto ho portato mio figlio a Lucca a vedere quant'anni c'ha suo figlio? tre ah beh Ludovico è più piccolo di te si si ha fatto il tifo per tutta la partita tifo sfagatato perché noi dobbiamo puntare a quel tipo a quel tipo di stadio cioè noi la Lucchese non è solo una squadra di calcio la Lucchese è il brand di Lucca Lucca è una città bellissima che organizza degli eventi importanti che esporta bellezza in tutto il mondo e questo lo dobbiamo fare anche con il club su questo diciamo abbiamo fatto questi piccoli passi sono stato molto soddisfatto per esempio che con l'Olbia era una partita che aveva poco da dire e comunque c'erano quasi 2000 persone c'era un pubblico molto giovane poi le dico una cosa che pochi sanno ma a Lucca un po' la voce è girata poi anch'io ero presente quindi me ne sono reso conto tranquillamente c'erano delle decine di turisti decine e decine di turisti non italiani chiaramente anche sentivo parlare francese però piace il calcio chiaramente però se fai queste diciamo queste iniziative non dico che devi fare tutti gli ingressi a un euro perché sarebbe anche controproducente in certi momenti però magari queste iniziative che so che il turista che viene a Lucca ha diritto a un biglietto scontato cioè tutte queste piccole cose che non fanno altro tanto lo stadio va aperto a un costo sono accattivanti sono accattivanti poi comunque lo stadio va aperto a un costo quindi è meglio avere magari mille persone in più allo stadio con un incasso inferiore fra virgolette che avere mille persone in meno con un incasso fra virgolette superiore quindi senta dottor Lofaso questa domanda che esula dal calcio però non esula da Lucca buonasera ma il dottor Bulgarella sarebbe interessato anche al basket Telemura-Lucca sa che il basket Telemura-Lucca io mi sto spendendo perché veramente mi piange il cuore perché è stata una squadra che sei anni fa ha vinto lo scudetto del basket femminile e veramente mi piange il cuore a vedere la situazione attuale sono situazioni che dispiacciono certo noi siamo già abbastanza impegnati il progetto Lucchese va preso con la giusta serietà poi stiamo facendo anche nella nostra attività principale che è lo sviluppo degli alberghi abbiamo dei cantieri importanti a Sarzana perché stiamo ristrutturando un gioiello che è la colonia Olivetti a Sarzana sì a Sarzana ce n'era una anche a Marina di Massa sono queste a Sarzana ed è una colonia avveniristica e sarà una struttura a 5 stelle la struttura è tipo quella di Marina di Massa è una struttura più pioneristica più avanguardista è una struttura cilindrica la vista è questa ancora più estrema è molto bella con una grande pineta la spiaggia contemporaneamente stiamo ristrutturando un albergo importante uno dei nostri alberghi a Via Reggio stiamo seguendo un progetto su cui saremo protagonisti per un albergo secondo me uno degli alberghi più importanti di Milano e quindi diciamo oltre l'impegno calcistico che è importante abbiamo gli impegni dell'azienda che sono anche stringenti perché poi se l'azienda funziona funziona bene anche posso chiedere una cosa ma è vero che il dottor Bulgarella comunque al di là del messaggio di questo amico è stato cercato per vedere se chiaramente avete già preso anche la lucchese allora il presidente penso che riceva la media di 250 telefonate al giorno quindi poi è un uomo che risponde a tutti però penso che non si possa fare tutto oggettivamente certo bene dobbiamo andare in pubblicità stavolta è l'ultima pausa veramente l'ultima pausa a tra poco allora ancora con l'ultima puntata di Curvo Ovest e l'ultimo blocco di Curvo Ovest di questa lunga stagione eccoci tornati siamo davvero alle battute finali con il dottor Lofaso c'è questa domanda che è molto interessante volevo sapere ci domandano se il gruppo si è avvicinato a Lucca perché si è mossa l'amministrazione parla dell'amministrazione comunale ovviamente diciamo l'amministrazione non si è mossa direttamente ma è stata determinante in un secondo momento perché il sindaco si è mostrato molto accogliente molto disponibile non è che noi dovessimo chiedere cose particolari però se tu devi iniziare un'avventura imprenditoriale così particolare come l'acquisizione di un club che è un'azienda pubblica e privata avere diciamo l'appoggio dell'amministrazione è molto importante quindi è stata una componente quindi il primo rapporto l'amministrazione è venuta dopo il primo contatto con che è stato? con qualcuno della vecchia dirigenza? i primi contatti sono stati penso con qualcuno della vecchia dirigenza poi io sono subentrato nel momento in cui c'era oggettivamente un interesse quindi bisognava iniziare a mettere le mani ai documenti per cui quella prima fase di primo approccio non lo segui mi è entrato regista allora intanto devo dire che il nostro direttore Giulio Del Fiorentino la saluta cordialmente la ringrazia e si scusa se stasera purtroppo non è stato qui ad accoglierla ma aveva altri impegni ci domandano però non so ci chiedono Fabrini rimane? ora mi sembra il dottore l'ha detto dovranno cominciare colloqui con l'allenatore con il direttore sportivo che ha ricordato hanno ancora un anno di contratto e poi via via di conseguenza le cose in modo sensato e logico adesso ci fate delle domande che allora tanti auguri al dottor Lofaso le premesse per poter sognare di nuovo stavolta sembrano esserci approfitto dell'occasione anche per fare un grande in bocca al lupo alla mia amica Rebecca che a Roma a sostenere un concorso pubblico va bene saluti Paolo da Piazza San Michele a Luca quindi proprio dal centro di Lucca qui ancora Puccio 63 ci chiede se non direttamente Bulgarella ma se conoscete qualcuno che può salvare il basket a telemura che è una società sicuramente che è entrata nel cuore degli sportivi lucchesi e poi buonasera dottor Lofaso volevo chiedere se avevate già in mente un budget per la prossima stagione per la prima squadra e vuole sapere anche di quanto era di quanto è poi il settore giovanile però ne ha già parlato saluti il centro sportivo ne ha già parlato saluti Sant'Anna Boys Lofaso ma il pulma lo comprate con scritto lucchese ce ne sarebbero tantissimi mi ha fatto molto sorridere il tema del budget perché questo misuratore è un po' mitizzato secondo me in tutte le cose non è che se tu spendi tanti soldi hai certezza di avere un risultato ce lo insegna qualche squadra che c'è davanti sta davanti a noi e non è riuscita mai ad andare molto avanti o la SPAL in serie B secondo me bisogna avere bisogna avere un progetto che duri nel tempo e ambire alle posizioni di vertice con continuità questa è la strategia che bisogna adottare da club ambizioso cioè non fare una puntata all in su una stagione ma costruire un progetto che duri nel tempo questa è la strategia poi il settore giovanile ci può aiutare a far emergere qualche giovane e a creare valore la prima squadra ci può aiutare a far emergere qualche giovane e a creare valore e così si creano le precondizioni per crescere dottor Lofaso avete già in mente il prossimo acquisto per la lucchese russo Antonino va bene va bene Bulgarella Grassi Lofaso Maestrelli Mangiarano Vitale ah ecco fanno questo accostamento allora Bulgarella però non lo so Bulgarella Maestrelli Bulgarella Maestrelli Lofaso chi era allora? Pino Vitale no 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 Lofaso era Grassi Grassi e qui sono sbagliati hanno fatto e Mangiarano Pino Vitale esatto in pratica vanno accostato a quella che è stata credo nel dopoguerra sicuramente la più grande lucchese che ha sfiorato la serie A con allenatore Corrado Enrico speriamo di essere all'altezza di questi accostamenti faremo di tutto per esserlo è vero che il dottor Bulgarella il suo presidente per l'allenatore avrebbe in mente nomi clamorosi allora ripeto sorrido perché no vabbè dai si fa perché diciamo sono si paretti simpatici faremo un percorso anche lì è importante prima parlare con il mister e poi piano piano faremo tutto il resto cercando di comprendere in che direzione andare Gianluca da San Martino in Freddana che dice c'è solo Lucca fateci sognare dopo più di vent'anni di purgatori ci metterei non voglio fare il Dante della serata quasi un inferno anche un po' anche una spolverata di inferno quella sicuramente e di mangiatori d'ostri che come li chiamavamo noi chissà dove saranno finiti allora portateci a Lucca Sbaffo io però non so chi si chiede Sbaffo è quello della Recanatese ah Sbaffo 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 di Stefano e Ladinetti di Stefano ha fatto gol anche stasera e cominciamo a sognare la B Fabrizio 82 questi sono consigli per gli acquisti i consigli per gli acquisti ora ce l'ho qui ma non la voglio tirar fuori li fece anche l'opinione ce n'era qualcuno buono mi dice una cosa di questi nomi non farò mai un nome potrebbe esserci potrebbe esserci c'era qualcuno veramente interessante molto interessante c'era un paio di profili giorni molto interessanti devo leggere Linda Linda è una grande forse delle tifose top dice innanzitutto vorrei ricordare Piccone un grande tifoso perché oggi ricorre l'anniversario della sua morte è avvenuto a 13 anni tra i tifosi veramente c'è questo grande senso di appartenenza e di solidarietà saluto il dottor Lofaso più che fare domande vorrei solo dirgli che per quanto riguarda noi tifosi della Lucchese c'è un fuoco che cova sotto la cenere sta loro sta loro cioè a voi farlo avvampare saluto il grande Giulio visto che è l'ultima puntata saluto e ringrazio te Guido grazie questa trasmissione avrà anche difetti ma tanti soprattutto chi la conduce riceve qualche critica giusto io le accetto le voglio le critiche ma rimane l'unica che parla di Lucchese e della sua messa in onda credo che te Guido ne abbia molto merito però il 10 giugno e qui mi dà la stocca forza City ma ha già vinto il City Linda non ti preoccupare la Champions se gli hanno già portato vai tranquilla Linda vai tranquilla glielo ho detto l'ultima parte era minacciosa e poi c'è sempre quelle lì eh? e poi c'è sempre quelle lì sul taccuino il veleno nella coda il penultimo gli leggo se le dico Matteo Andreoletti Bulgarella è innamorato di Zeman hai detto di leggere il penultimo Zeman Zeman è un allenatore è un uomo è vero che a Bulgarella piace ma Zeman è un uomo affascinante tra l'altro è una persona che il Presidente conosce al di là del calcio ma conosce tantissimi allenatori che sono anche amici per cui l'amicizia è una cosa poi da lì a venire a lavorare a venire a Lucas Andreoletti è un profilo che magari Mangiarano potrebbe seguire ma sì ci sono un sacco di allenatori giovani interessanti o meno giovani ci sono profili di tutti i tipi però ripeto con grande rispetto noi abbiamo ancora Maraia che ha un anno di contratto e dobbiamo discutere prima col mister e poi capire in che direzione andare pensi comprate Magico comprate Mario Palotelli poi questo è troppo lungo mandate messaggi sono Luca si potrebbe sapere che sotto contratto ce l'ha detto dieci sono dieci non ci fate fare l'elenco adesso l'elenco però ci sono una decina di giocatori sotto contratto è già uno zoccolo interessante poi a questi ne andranno ne andranno faremo dei rinnovi sicuramente e poi andremo a ultimare la rosa in maniera consistente Corrado D'Atereglio fa i complimenti al sindaco di Lucca Bardini che secondo lui si è molto impegnato beh d'altronde l'ha confermato anche il dottor Lofaso e poi poi danno i consigli alla nuova società consiglio Maurizio Viscidi che è già stata a Lucca come nuovo allenatore Claudio D'Afarena però non andiamo avanti quei tempi giustamente adesso dovranno parlare con quelli che comunque con la lucchese hanno sicuramente disputato una buona stagione perché su questo nessuno può obiettare siete tantissimi io vi ringrazio tutti buonasera per far ritornare allo stadio ci vogliono cinque vittorie consecutive in campionato poi se ne ripara tanti auguri di buon lavoro al dottor Lofaso Paolo Damassarosa anche in Versilia ci sono tanti tifosi della lucchese niente io vi ringrazio tutti ma non stasera per quello che per come ci siete stati vicini guardate è veramente anche stasera una cosa incredibile in tutti in tutti questi mesi siamo chiusura dopo di noi tra l'altro si parla a Rotocalco Versilia del Giro d'Italia lei è appassionato di ciclismo sa che il giro è passato qui da noi in queste ore si sono appassionato di ciclismo tra l'altro ho lavorato per un periodo in Romagna dove facevano la Nove Colli la patria di Pantani quindi c'è un corridore che l'ha fatto appassionare Pantani Marco Pantani ma vabbè chi è che non si è appassionato poi vabbè quella è una storia che diventa tragedia e di conseguenza si trasforma poi in mito e leggenda ma uno così in salita io non so personalmente se lo vedremo più con tutto rispetto per i grandi campioni che ci sono oggi dottor Lofaso io le auguro buon lavoro mi auguro che anche ora parlo a nome anche del nostro direttore veramente quello che è iniziato nel modo non giusto di più anche come rapporto con Noi TV si possa proseguire e migliorare poi per la prossima stagione quando noi vorremmo fare tante cose di più tante cose migliori con la Lucchese noi abbiamo anche bisogno di voi sicuramente certamente grazie per l'invito e poi rimandiamo alla prossima conferenza stampa più avanti con tutto il resto della stampa delle novità diciamo possiamo dire fine maggio prima giugno una data precisa non c'è comunque nella prossima quindicina di giorni qualche settimana via opinion leader la stagione numero 12 non ti emozionare alla fine dai sono tranquillissimo no dicevo eventualmente io sono a disposizione eventualmente o voi o Sky mettetevi d'accordo va bene voglio ringraziare anche l'ufficio stampa della Lucchese per la collaborazione che ci ha prestato in questa lunga stagione Matteo Bedini Marco Cervelli Gian Piero Pucci quando si sono alternati di là dal vetro Curvoves vi saluta buona estate buone vacanze seguiteci perché poi noi la Lucchese ve la racconteremo tutti i giorni ci saranno credo tante novità tante cose belle poi come sempre sarà il campo e sarà il tempo loro sono i giudici supremi dottor Rofaso grazie buonasera 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 a tutti noi ci sentiamo quotidianamente grazie da Curvoves è tutto